Una giornata importante, ma da domani si ricomincia perché c'è da lavorare ancora tanto sulle infrastrutture del Savonese. Assolutamente sì, è una giornata importante perché ci permette di iniziare a uscire da un'emergenza molto grave. Il fatto della riapertura serve alle imprese, serve all'impresa del porto, serve all'impresa manifatturiera da Val Bormida, serve a migliorare il traffico sulla tratta litoranea e serve evidentemente anche molto al turismo. A breve c'è Pasqua, avremo anche le vacanze estive e quindi è fondamentale avere le corsie libere per poter salire e scendere dal Piemonte. Però ricordo che questo è soltanto un uscire da un'emergenza che ci ha visto addirittura isolati. Quindi bisogna fare molto, attendiamo di vedere il piano per le infrastrutture della Liguria da parte della Ministro De Micheli e ci auguriamo che questo voglia dire anche le infrastrutture del Ponente. Dopo il Ponte Morandi, continuo a ripetere, la parte più danneggiata, considerando poi quello che è accaduto il 22-23 di novembre e anche le mareggiate del 2018, è stato assolutamente il Ponente. Savonese e Imperiese siamo stati tagliati fuori, continuiamo a essere tagliati fuori. Quindi è fondamentale che in quel piano ci sia parecchio per il Ponente Ligure. Si continua a lavorare con i tavoli, sono infrastrutture con il Comune di Vado e al centro la piattaforma MERSC. Però c'è ancora tanto da fare, per esempio una delle aziende in crisi, per esempio Funivie, aspetta delle risposte importanti. Sì, Funivie aspettava delle risposte importanti dal mille proroghe. Se confidiamo che il disegno di legge appena depositato possa andare direttamente in sede del Regigente, visto che c'è l'accordo da parte di tutte le forze politiche, perché questa cosa possa andare avanti, è fondamentale per due ordini di ragioni. Uno, per trovare le risorse nell'ambito dell'emergenza, circa 4 milioni di euro, per fare gli interventi su Funivie, ma ancora più fondamentale l'introduzione della norma che permette ai lavoratori di poter ricevere la cassa integrazione straordinaria che altrimenti non potrebbero ricevere.